Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Martina Colombari e suo figlio Achille Costacurta sono al centro di una controversia che sta facendo discutere l'opinione pubblica. Nonostante le difficoltà, Martina ha dimostrato di essere una madre esemplare, capace di gestire la situazione con grande umiltà. Il giovane Achille, di soli 19 anni, è stato coinvolto in diversi episodi controversi, tra cui un arresto per resistenza e violenza pubblico ufficiale. Recentemente ha pubblicato su Instagram delle foto in cui mostrava denaro e sostanze sospette, insinuando che anche la madre faccia uso di droghe. Tuttavia il profilo del ragazzo è stato cancellato e la polizia sta indagando sulla questione. Martina Colombari ha sorpreso tutti con la sua reazione, non difendendo il figlio, ma ammettendo che lei e il marito stanno affrontando delle difficoltà. Ha raccontato di come Achille abbia avuto problemi a rispettare le regole e le autorità e di come lei abbia cercato di educarlo nel migliore dei modi. Tuttavia ha sottolineato che i figli devono imparare dalle proprie esperienze e assumersi le proprie responsabilità. La speranza di Martina è che suo figlio possa imparare dagli errori commessi e capire che le azioni hanno delle conseguenze. Ha dichiarato di aver fatto del suo meglio nell'educare Achille, ma che alla fine spetta a lui prendere le proprie decisioni e imparare dagli sbagli. Con grande umiltà e sincerità Martina ha affrontato la situazione con coraggio e determinazione.